I più maliziosi sostengono che lei, come anche altri esponenti del PD che fanno parte dell'aggiunta Vendola, hanno fatto parte dell'aggiunta Vendola, costituiscano il cosiddetto partito degli assessori. È un'esperienza che, a detta di alcuni rappresentanti del PD, si vuole evitare per il futuro. Lei cosa pensa di questo? Sono malizioso anche io al punto che me lo sono chiesto. Mi sono detto che il tuo sostegno a Vendola è forse un gesto di gratitudine nei confronti del presidente Vendola che ha deciso di chiamarti a collaborare con lui. Sono stato molto esigente con me stesso perché volevo eliminare in me il dubbio che in effetti il mio punto di vista fosse motivato da questo atto di fiducia incondizionata. In realtà, nonostante la severità, mi sono ritrovato a rispondere che non è così, ma per la semplice ragione che andando in giro per la Puglia, e molto spesso mi è capitato con il presidente Vendola, ho visto la gente, il popolo, non le classi dirigenti, non i benpensanti, non quelli che appaiono in televisione o sui giornali, le famiglie, le donne, gli operai, i bambini che con il presidente Vendola hanno stabilito proprio un rapporto di fisica condivisione. Guardi, sovente capita di vedere cittadini pugliesi che chiedono a Vendola di fare una foto assieme, di farsi firmare un autografo, e ovviamente questo non per idolatria, perché un istante dopo dicono, ah perché tu hai fatto qualcosa per risolvere il problema della mia precarietà, perché io non sapevo se il mese successivo avrei lavorato, però tu mi hai dato la possibilità, per esempio con i provvedimenti di stabilizzazione, di poter pianificare la mia vita, cioè di poter dire che forse tra sei mesi potrò comprare la cameretta nuova al bambino. E quindi questo rapporto che ho notato girando la Puglia mi ha fatto dedurre che c'è un gradimento diffuso nei confronti del presidente Vendola. E allora mi chiedo perché ostacolarlo? Quando le cose vanno bene, diciamo, è da sciocchi scassarle. Assessore, c'è passo di capire che i sette mesi, gli otto mesi di sua presenza in giunta, nella giunta Vendola, in qualche modo costituiscano anche un ponte per i prossimi cinque anni, almeno dal punto di vista dei temi. Lei ha affrontato subito il problema della pubblicizzazione o della difesa dell'acqua pubblica, soprattutto in Puglia, dove c'è l'acquedotto pugliese, il più grande acquedotto d'Europa. La vita di ognuno di noi è un ponte, anche questa intervista è un ponte per trasferire agli altri le cose che pensiamo, per trasferire a chi avrà la bontà di cliccare e di soffermarsi su questa intervista, di sapere qual è il nostro punto di vista. Non esiste un'azione amministrativa che possa essere concepita e consumata nella limitatezza di un momento. Ogni atto amministrativo deve essere compiuto da un lato per corrispondere all'esigenza dell'immediato e dall'altro per far transitare quest'atto amministrativo nel futuro. Ovviamente non si transitano carte, si transitano cose concrete. E allora la battaglia sull'acqua pubblica, sul servizio idrico integrato, gestito da un soggetto giuridico pubblico, null'altro è che questo ponte nel futuro, per poter segnare il campo già da ora nei confronti di tutti gli amministratori che verranno, perché noi non sappiamo se saremo noi, se saranno altri, certo ci speriamo, chiediamo i voti anche per questo, per transitare nella nuova gestione amministrativa un punto fermo, il senso di una decisione assunta, cioè che il servizio idrico integrato debba essere pubblico. E questo è diventato anche argomento di campagna elettorale sul quale sarebbe interessantissimo che anche i nostri candidati presidenti e avversari si esprimessero, perché sinora ho ascoltato soltanto espressioni di ambiguità, la politica non può essere organizzata sull'ambiguità, la politica sono parole chiave, perché altrimenti è facile depistare i cittadini e non rispettare l'affidamento che i cittadini fanno della propria vita attraverso noi, noi candidati. Ecco Assessore, sempre a proposito dell'acqua pubblica, della difesa dell'acqua pubblica, è stato scritto sui giornali che c'era il rischio o la possibilità che un importante gruppo nazionale, il gruppo Cartagirone ad esempio, potesse in qualche modo entrare nel business della gestione dei servizi idrici. Ecco, ma in concreto, naturalmente non ci sono state né smentite né conferme su questo, ma in concreto c'è un rischio che possono correre i cittadini pugliesi? In concreto c'è una legge approvata dal Parlamento nazionale che obbliga alla gestione del servizio idrico integrato, obbliga a darlo ai privati, magari anche in una società mista con una partecipazione pubblica, c'è una legge, noi abbiamo presentato un ricorso alla Corte Costituzionale perché riteniamo che quella legge violi quantomeno il conflitto di attribuzioni tra poteri del Parlamento nazionale e i poteri della legislatura regionale, cioè del Consiglio regionale. Quindi se non ci diamo da fare l'applicazione di questa legge che per tutte le regioni italiane, per tutti i comuni italiani ha un'impellenza maggiore perché già da quest'anno dovrebbero avviare le procedure di selezione del gestore privato, mentre per noi la tempistica è più posticipata perché con una legge speciale la gestione fu assicurata da Quedotto Pugliese fino al 2018, ma nell'attività amministrativa il 2018 è domani e quindi bisogna destarsi con particolare anticipo. Assessore ci sono altri due punti su cui lei ha soffermato la sua azione amministrativa in questi otto mesi e sono le due matasse burocratiche nelle quali lei si è cimentato per sbrogliarle che sono la Pavoncelli bis e la statale 172 dei trulli. A che punto siamo da questo punto di vista. Sulla statale 172 dei trulli che è stata utilizzata in maniera emblematica per segnalare l'impegno su tutte le strade pugliesi e in particolare sulla sicurezza, ne diventa emblema la 172 dei trulli perché da tanti anni si aspetta l'ammodernamento e la messa in sicurezza e da tanti anni ogni giorno si scoprivano inciampi. Ho per parte mia in maniera metodica e sistematica risistemato il procedimento amministrativo e quindi per fortuna oggi posso dire che siamo all'alba della prima pietra e questo è un fatto importante. Per la Pavoncelli diciamo io ho compiuto due iniziative attraverso la Pavoncelli. La prima è far conoscere i cittadini pugliesi una roba che non conoscevano. Pavoncelli era al limite per gli abitanti di Cerignola e dintorni quest'uomo Giuseppe Pavoncelli che era stato un uomo politico degli inizi del Novecento, rispettato, amato ma in quella zona. In realtà per i pugliesi Pavoncelli significa una galleria che prende l'acqua da Caposele in provincia di Avellino e la porta in Puglia attraverso questo traforo straordinario. Pavoncelli significa per la Puglia l'acqua, Pavoncelli significa l'emancipazione della Puglia da condizioni epidemiologiche difficili. Quando arrivò l'acqua in Puglia grazie alla Pavoncelli non ci fu più il colera, non si morì più per fatti virali, per contagi o quant'altro. Ma allo stesso tempo la Pavoncelli è anziana, la galleria Pavoncelli, anche perché è sistemata in una zona sismica e questa anzianità determinò sin dal 1980 dopo il terremoto dell'Irpinia la costruzione di una galleria parallela che funzionando potesse dare la possibilità di manutenere e mettere in sicurezza la galleria Pavoncelli storica. Bene, dal 1980 questo cantiere è ad alterne vicende fermo, è un monumento nel deserto, è sperpero di denaro per via di ostilità di ogni natura, anche tra enti pubblici. Bene, bisognava prendere il turo per le corna e dire dichiariamo lo stato d'emergenza per quanto riguarda i lavori della Pavoncelli che il governo nazionale, devo dire, ha dichiarato perché nel caso Dio non volesse crollasse la Pavoncelli resterebbero senza acqua 1 milione e 400 mila pugliesi. La politica ho l'impressione che sia questo.